La forma del limone. Ho visto limoni realizzati con queste forme. Ho visto limoni realizzati con queste forme. Ho visto limoni realizzati con queste forme. Allora, per disegnare un limone o un uovo dovete sempre fare il diametro a occhio del primo cerchio, il diametro a occhio del secondo cerchio e il raccordo. E poi le pretuberanze del limone. E' molto più semplice lavorare così anche perché siete costretti ad osservare il limone.